Buondi ragazzi, buon venerdì a tutti quanti voi, primo video di giornata su chi su Calvin Phillips. Ci sono delle novità dall'Inghilterra, che arrivano direttamente all'Inghilterra, le ha riportate anche Gazzetta stamattina. C'è un sì del City e dello stesso Calvin Phillips per venire alla Juventus. Sa da fare, sto a fare? Ne parliamo insieme, parliamo anche del giocatore, di come può incastrarsi nel contesto Juve. Vi dirò le mie opinioni, con molta tranquillità, sono curioso di leggere anche le vostre, ovviamente confrontiamoci sotto nei commenti. Io ragazzi vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, perché poi usciranno altri contenuti più tardi, se non volete perderveli, iscrizione e campanella, combo totale per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando. E poi date una grossa mano a noi creators qua, con la vostra iscrizione, quindi vi ringrazio in anticipo. Ora, parliamo di Calvin Phillips. C'è un preambolo da fare sulla sua storia, è un'introduzione ben fatta. Allora, viene acquistato l'anno scorso dal Manchester City, che lo preleva dal Leeds. Calvin Phillips diventa giocatore vero sotto la guida del Loco Bielsa, diventa un giocatore centrocampista totale, che in quel Leeds incideva anche sul piano offensivo un po' di più. Però è un giocatore sempre che ha avuto delle caratteristiche molto difensive. Un classico regista avanti alla difesa, bravo interditore, sa leggere tatticamente tantissime situazioni, un'intelligenza tattica superiore rispetto alla media dei mediani. E quindi, notato da Guardiola, il City fa l'investimento, 50 milioni circa di euro, lo comprano. Guardiola lo porta a Manchester, lo usa molto poco, perché purtroppo c'è un fenomeno di parietà. Il suo nome è Rodrigo Hernandez Cascante, noto Rodri. Rodri è difficile, perché è un giocatore totale, fortissimo, che ha un peso specifico in quella squadra che è difficile da colmare da chiunque. È difficile scalzare Rodri dalle gerarchie di Guardiola. E neanche il buon Calvin riesce. Dopo un anno tribolato, con poche presenze, quest'anno qua è partito così così, Calvin Phillips si è venuto un po' alla strizza. Ha detto, io non vado agli europei, si continua a giocare così poco. Cioè, Southgate va e prende altri. Io devo giocare. Per cui si è creata questa situazione un po' scomoda per il ragazzo. La Juventus ha affiutato la cosa. C'è stato un colloquio con la gente in Inghilterra. E Manna è giunto lì. E la gente ha dato grande disponibilità per venire alla Juve in prestito secco anche per sei mesi. Il City ha fatto l'occhiolino alla Juventus per delle semplici ragioni. La Juve non è un competitore in Inghilterra, la Juve non è un competitore in Champions League e crede che quindi Calvin Phillips possa andare là tranquillamente, farsi notare. Non rimane un asset dormiente al suo interno. Quindi il City è ben felice di spedircelo a Torino per questi ultimi sei mesi. Il ragazzo ha grande motivazione. Vuole prendersi comunque un posto in squadra in Inghilterra da titolare. Non un posto in squadra per andare a fare quel mesetto in ritiro con la Nazionale. Vuole essere protagonista e quindi ci sono le condizioni per poterlo portare e un'opportunità di mercato anche a basso costo. Il fatto che si vada a virare su un'opportunità simile significa anche che probabilmente c'è poca disponibilità A di alcune squadre, B di alcuni giocatori di spostarsi in questo momento già a gennaio. Parlo di Samaric dove l'Udinese ha estremamente bisogno delle sue prestazioni perché Samaric è uno dei giocatori che crea più occasioni da gol all'interno dell'Udinese è nella classifica top 10 dei giocatori con più passaggi chiave fatti i passaggi chiave sono quelli che portano al tiro essenzialmente e quindi è una macchina che va a rifinire il gioco Samaric e quindi l'Udinese vista la condizione di classifica se lo vorrebbe tenere fino a luglio poi a luglio sono super disponibili a parlarne però c'è un muro da parte dell'Udinese da scalare Altri obiettivi Oibierg il Tottenham vuole cash subito 30 milioni minimo se di lui c'è anche l'Atletico ne abbiamo parlato anche con Romeo per cui Calvin Phillips è una di quelle opportunità che ti va a portare sicuramente delle qualità importanti in squadra hai un costo basso anche se è un ingaggio della Madonna ma credo che gran parte dell'ingaggio poi verrà pagato dallo stesso Manchester City per cui si crea questa situazione dove vincono tutti il City perché non ce l'ha in mezzo alle scatole né in campionato né in Coppa e poi soprattutto non rimane un asset che sta lì a marcire in panchina Calvin Phillips perché trova un contesto che può metterlo in vetrina per Southgate sei mesi possono essere un buon compromesso la Juve perché in attesa di obiettivi più sensati va a prendere un giocatore comunque di qualità e risparmia qualche quattrino in vista della campagna estiva questa è la situazione che ipotizzo ecco per quanto riguarda Calvin Phillips ho letto dei commenti generosi è uno scarparo diciamo ragazzi ma vi pare che uno può essere soprannominato il Pirlo di Yorkshire ed è uno scarparo ho letto anche un altro commento nello short che ho fatto ieri sera a un giocatore che a prende subito io mi metto a ridere per queste cazzate l'ha detta Pepe Guardiola questa roba è un giocatore che è bravo a prende una spugna lo dice è roba che ha detto Pepe Guardiola non lo dice colpo gobbo io non lo conosco Roderich se ho ripetuto quella roba simile col virgolettato per quella ragione per cui un giocatore è un mediano basso è un grande interditore grandi letture tattiche nel senso sia difensive sia col possesso palla sia senza palla fase difensiva molto bravo bravo a vincere i duelli meno bravo nei duelli aerei e vabbè io la possiamo perdonare però nei duelli uno contro uno risultano osso duro è un giocatore che anche in transizione negativa sa leggere molto bene il gioco quando è in costruzione e prende palla non va in affanno ha delle ottime capacità di palleggio poi vi dico anche cosa dice Pepe Guardiola nei confronti di Calvin perché è una qualità che a noi alla Juventus servirebbe tanto però è un giocatore marcatamente difensivo a livello di caratteristiche eccetera a noi probabilmente servirebbe qualcosa in più là davanti qualcuno che crea gioco che crea delle possibilità che sia bravo a creare appunto i famosi passaggi chiave o delle azioni pericolose questi giocatori noi non li abbiamo c'è un Miretti che mi sta stupendo in tal senso che anche con la Fiorentina va a creare delle situazioni interessanti però poco più fagioli e Pogba che erano i giocatori che da questo punto di vista devono dare quel qualcosa in più non li abbiamo per tutta la stagione l'arrivo di Calvin Phillips sicuramente non migliora queste condizioni però il mio pensiero è questo ma non è che Allegri vuole un cavolo di motorino che faccia lo speedy Gonzales davanti alla difesa recuperi palla gestisca palla e vada un po' a migliorare anche quella che è la circolazione di palla all'interno del centrocampo perché Calvin Phillips non è solamente un motorino governa il centrocampo governa i movimenti dei compagni questo mettetevelo bene in testa perché è uno che sa prendere subito il centrocampo in mano lo ha dimostrato al Leeds lo dimostra anche al Manchester quando gioca i suoi sprazzi di partita al posto di Rodri per cui è un giocatore che da quel punto di vista non è criticabile lo possiamo criticare per la sua attitudine offensiva che non è sicuramente spiccata però ha delle altre caratteristiche questo magari libera Locatelli in una posizione più avanzata McKennie un po' più tranquillo a fare la mezzala Rabiot più tranquillo lo stesso a fare la mezzala può darsi Guardiola dice una cosa molto carina su di lui è perfetto Pep Guardiola non colpo gobbo Pep Guardiola stessa pelata ma a livello di testa calcistica io CSI lui Premier League questo è il livello l'allenatore del City dice è perfetto per situazioni con un po' di casino a centro campo cioè è perfetto perché lui ha la capacità di portare controllo stabilità durante i momenti della pressione del gioco cioè quando c'è alta pressione nei confronti della Juventus lui è il classico giocatore che ci sguazza c'è casino lui mette in ordine la situazione è probabilmente questa caratteristica che manca totalmente al centro campo della Juve è una caratteristica apprezzata dai dirigenti della Juventus che sono andati là appunto a tentare di imbastire questa eventuale trattativa questo è è un giocatore quindi difensivo davanti alla difesa molto bravo nel possesso molto bravo nel palleggio non è un giocatore che ti fa assist non è un giocatore che ti fa gol poi se arrivano ben venga ovviamente ma non è quella la sua caratteristica principale ne ha altre alla Juve serve questo o serve quell'altro l'ideale sarebbe prendere lui e Samarzic a gennaio sei in una botte di ferro secondo me se prendi questi due giocatori puoi stare sereno sereno fino a fine stagione te la puoi giocare tranquillamente con tutti hai degli ottimi giocatori in squadra e fine fine questo è il mio il mio pensiero detto ciò spero abbiate apprezzato il video ci vediamo dopo la conferenza stampa di Allegri e poi nel pomeriggio non escludo altro contenuto magari short magari però insomma mi raccomando vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine forza Juvea grazie